Ok partiamo la volta di Velen ragazzi in Yennefer's behest Grazie per la visione bello eh? Molto rassicurante almeno che è una moda impiccare gente sullo stesso albero mi sa che non si la passano tanto bene qua a Velen eh? mi sa proprio di no mi sa questa dovrebbe essere la taverna che ci interessa ma perchè ci sta il segnetto giallo così? c'è un po' paura dei stranieri eh? senti come stiano straniero straniero puraccio un maiale ho un'impressione che ci odino qui eh allora chi è? proviamo a parlare con col taverniere guarda guarda un uomo che sta per il Hendrick che vuoi con lui? vuoi parlare con lui cosa vuoi? guarda un uomo 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 sembra un bravo guerriero, hai due scuola, vedi? Oye, bravo ragazzo, qu'è il punto di avere due scuola? Sto chiede se si guarda un extra prigio nelle scuola anche. Tu f***er morto! Puoi aver guardato? O dobbiamo riuscire la tua scuola con la mia scuola? I'm a witcher Heard you wondering about my swords Well one's for monsters The other for humans Only got one prick though In case you're wondering about that too Don't touch him Don't even look at him Worse than lepers that lot Saw one in action once He killed a half dozen Blood everywhere Freak didn't even show a drop of sweat Got the stench of corpses on him Bastardi hanno insultato i nostri I nostri vestiti puliti Per la volta che stiamo è puliti cazzo Thanks for not starting a row with those swine I don't generally poke my nose in other people's business Looking to stay the night? No I'm looking for Hendrick Man lives in Heatherton Other side of the hill Looked that way this morning And saw a strange glow Imperials on the raid perhaps But who knows Anything else you can tell me about Hendrick? Odd fellow A Roy from who knows where And for no apparent He's locked up with a widow Whose husband was stabbed For a scrap of bread Oh Men don't like strangers Oi He stays out of their way Always seems to know when they're coming Always manages to disappear Grazie amico Andiamo a cercana sta gente Abbastanza Fuggitivo Oh la carrozza Andiamo al mio cavallo Come on Roach Che pareva che ci devono attaccato Succede sempre così Lasciate in pace Questo qua perchè ci ho messo tre anni a trovarlo Portacci vostri cagnacci del cazzo Ahia Sto pure a crevato Sto manco curato Ok Ok Siamo salvi Sempre utile Sto manco Sto manco Sto manco Sto manco Sto manco Sì, questo non roba lo sbandostano, no? Sì, questo non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero. Sì, questo non è vero. Sì, questo non è vero, non è vero, non è vero, non è vero. Sì, questo non è vero. Per quale motivo? Merda, dicevo con una merda. Mamma mia ragazzo. E' una desolazione, guardate il ghiaccio qui solo intorno. Porco cane. Cazzo, e lui ne sa? Cazzo. 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 Un libro. È quello che cercavano quelli, forse? Perché così nascosto stava sto libro? Hmm, cosa è questo? notti nella leggera ... 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 Questa terra è comandata da questo barone. Guarda quanti punti di riferimento che abbiamo. Guarda il giro. Parla con il pezzi. Vittorio di Midcop. Madonna. Cattolo. Non lo so. Non lo so. Non lo so. Il cuore. Il acqua in un bucchio è riuscito. Un'acqua in un giro. Il pezzi di dire. quello che volevano anche loro come noi avevano le informazioni su Ciri il varone è una strega ragazzi questo video ragazzi finisce qua ci vediamo nel prossimo in cui andremo a trovare il barone o la strega adesso lo vedremo io vi ricordo di mettere un mi piace di commentare il video e condividere io vi ricordo che porteremo The Witcher in modo abbastanza veloce minimo 3 video al giorno quindi andremo sparati e ringrazio tutti quelli che seguiranno The Witcher su Game Aversize quindi è tutto e ci vediamo nel prossimo episodio ciao ciao ragazzi